Vabbè E comunque sto dicendo Nel mio canale Twitch Sto facendo una serie di 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 Com'è che si chiama? Ormai lo sto portando al termine Ma comunque Trovate il link in descrizione Potete vedere Ah mi devo buttare lì Dice scrivere Ok Ok Penca ma l'intelligenza ho la terra? Dovevi mettere la terra? Almeno fare una texture pack Texture pack e trasformare la terra in cacca No vero? No La terra in cacca Ma che cacchio Comunque Ehm Se volete lì farò altre mappe Magari Io ti aspetto Io ti aspetto Perché tu sei troppo lungo Si ma tu vai troppo avanti Ehm Ehm Tu vai troppo lento No No Dobbiamo scendere Per quello il povero tipo Non lo so Ehm E mo? Ah al verde Da verde al verde no? Si Che cacchio è? Questi maiali? Si va Ah lì Ah lì papà Non l'ho visto Io pensavo che dal verde si andasse al verde no? No Invece dal verde si fa rosso Perché io sono tra queste Porca E mo qua? Ah per passare l'altra parte Ehm Io voglio capire dove cazzo mi sta portando se roba Bit in cart and Switch lever Aspetta Aspetta Oh Eh? Ah io vado E se n'è andato Yeee Non ho preso Ah ok si che ho preso danna Che sto laggando Vai Non vedo Non mi fa salire Ah ok In Qui guarda Mi guardano dietro Qui dietro C'è il buco Ancora sta merda Ma qua? Qua? Si Il buco dovrebbe essere agli angoli Ah no Ah non ce n'è il buco Ehm Io non premerei il bottone però lo faccio Ma lo devo vedere su Stano spawnando maiali Ehm Vieni su Vieni su Eh da lì Ma che 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 fanno questi maiali qua? Ehm qua? Ehm qua? E ora vediamo Che Soprattutto che il vetro Io Non ho parole Mettere l'acqua no A parte che si ghiaccia Poi Ehm qua No Sta figa No Non è vero E tu che laghi Guarda i maiali che escono Sei tu che laghi Bene Ok andiamo avanti C'è ma no ma tu mi vuoi dire una cosa? Io mi sto incazzando Peppe guarda Noi ci siamo fatti tutto il giro Eh Quando eravamo davanti agli spawner dei maiali Prendevamo le cose e salivano L'avevo detto io da verde a verde Tu no L'avevo detto io No Vabbè ma era giusto sicuramente Vabbè Emo? E qua che cos'è? Ah qua vabbè pranziamo un attimo Oh che bel panorama Io ho premuto il pulsante Non so quanto posso servire Che è sta roba qua? Dove stiamo salendo? Ambo? Look down before you jump Prima di saltare Vabbè ma è ghiacciata Non ha senso E la spacca lui no E mo? E mo torniamo al punto dove abbiamo iniziato prima Vero? Ah ok Infatti sembrava strano che partiva da qua Ecco e io qui ho iniziato a sclerare Ah guarda Ah Poi Ah qui dove manca la Vaffanculo Così Peppe guardami Ti fermi Ti giri e sal Non va Non va Non va Sal Salti Salti e poi premi W Che deficiente Se tu premi W quello va avanti sulla scala Io ero arrivato Io ero arrivato Io ero arrivato per guardarti e sono caduto No Ah vaffanculo Forse ho capito No no Ce l'ho fatta Nooo Ce l'avevo fatta Guarda Guarda perché lì non me lo fa Guarda perché lì non me lo fa Siiii Emo Emo Cosemo cosaemo il aspetta Emo Dove sei? Qui Come faccio a salire? No, non mi direi che devo arrivare in quella scala Deve arrivare su quella scala lì, ma è facile Come? Dai, Massimo ti tipi qua sotto Sal Vai all'angolo Girati No Te caschi ti tipo Mi interessa No, ero tornato qua sotto Aspetta Aspetta, ero tornato qua sotto Eh, vabbè, tipo, io basta, mi sono rotto Dai, ok E dopo mille prove ce l'ho fatto, dai Ero arrivando lì, bro Manca una scala, perché io l'ho fatto così E' arrivato No Sì Mi manca un cazzo, guarda Lì è la scala Guarda che non mi ha fatto Guarda, guarda cosa, forza Guardiamo, va Vediamo, vediamo Aspetta Oh, forse ce la faccio Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok Ok Ok, posso andare Vedete, maggiore la crescione qui che ti aspetto Ok Dove andare qua? Ok Vabbè, ce l'ho fatta Aspetta Ok, ce l'ho fatta Quindi intanto l'acqua che si congela Aspetta No, devi aspettare che ho messo Ho rubato dei blocchi Eh sì, sono andato a scongelare l'acqua Ma vaffanculo Ok Non ha senso mettere l'acqua in un bioma della neve Magari non lo sapeva Perché è tardo C'è così Ma magari l'ho fatta apposta No, lo sapeva Perché qui c'è scritto Ice Quindi è un bagasso Bravo Ce l'hai ancora il kart Io sì Io sì E dai, piazza Ok Piano Il kart me l'hai rubato No, tieni Ok Ora? Comunque poi Il video verrà diviso A metà Non lo so In quante parti Ma la vuoi fare tutta adesso? Sì, sì Tanto dura pochissimo Guarda che continua a sbattere Nella scala Scala Ok Guarda che figata Dai, è facilissimo quel punto Se mi cali lì Dove sei? Ah, sotto Sotto Guarda che figata L'acqua congelata Che è? Che è? Perché tu te stai presso? Un biscotto Si scende di qua No Vediamo dove si va No Aspetta Aspetta Ah, forse si deve attivare No Sì, c'è qualcosa No, si va così Thanks for playing Grazie L'avevo detto che durava pochissimo Thanks for playing Così Comunque ragazzi Come ho detto Nel discorso video Consigliateci qualche mappa da fare Un'altra mappa parkour Noi continuiamo a prendere i biscotti Qui all'infinito Quindi ragazzi Ci vediamo In un prossimo video E ciao 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 Ciao